se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio è perché ti mancano le conoscenze per progredire noi di battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze academy ciao a tutti amici di mattoscacco ben trovati domenica 22 gennaio turno numero 8 del fortissimo tatastil torneo internazionale con i migliori giocatori al mondo che si sta giocando in questi giorni in olanda la situazione in classifica soprattutto nella parte alta resta invariata con noderbeck abdu sattorov che primeggia con sei punti davanti a un duetto formato da anish giri giocatore olandese con 2764 anche lui come il primo in classifica in grado di sconfiggere l'attuale campione del mondo segue sempre a cinque punti quindi in questo duetto anish giri e lo completa wesley so dopodiché un gruppone formato da aronian pragna carson caruana con quattro punti e mezzo e la notizia di oggi qualcuno probabilmente avrà già notato lo sconvolgimento in classifica è che finalmente magnus carson e ritorna nelle parti alte le parti alte della classifica alle parti alte che chiaramente spettano al campione del mondo vince la sua seconda partita consecutiva il suo avversario odierno era niente poco di meno che fabiano caruana e dunque questa è la partita che andremo a vedere quest'oggi e 4 per il bianco carson con il con il nero chiaramente e avevano fatto un pronostico sul sull'elo di carson e che come vedete è altissimo 2859 punti e dopo due sconfitte consecutive dicevano ok adesso per concludere il torneo con variazione 0 quindi senza perdere punti dovrebbe fare 7 su 8 purtroppo per lui un pareggio già l'ha effettuato e quindi questa vittoria con caruana sicuramente importante per il morale fabiano caruana ex sfidante al titolo mondiale proprio contro carson diversi anni fa e chiaramente fa morale la partita e 4 5 cavallo f3 cavallo c6 alfiere b5 apertura spagnola è da apparecchio che non ha le anizzo un'apertura spagnola e vediamo un po' comandata a 6 alfiere a 4 dopodiché cavallo f6 a rocco corto ci sono tanti modi di interpretare la partita per il bianco tra cui c3 d4 oppure cercare di rientrare in qualche linea magari meno teorica la spagnola è senz'altro una di quelle poche aperture dove ancora siamo in grado di introdurre delle novità teoriche cosa significa nelle altre aperture tendenzialmente le prime dico così dico un numero le prime 20 25 mosse sono abbastanza teorizzate e vista la elasticità dell'apertura spagnola qui abbiamo tanto da dire sia da bianco che da nero alfiere 7 torre 1 b5 attacco quest'alfiere che deve ripiegare in b3 e dove rocco corto arriva a 4 spinta tematica ricordate che ogni volta che il vostro avversario avrà questa struttura pedonale in questa apertura ma anche in altre solitamente il bianco cerca di aggredirla con il pedone che va in a4 chiaramente questo pedone che va in a4 potrebbe avere diverse idee la prima perdere spazio al lato della scacchiera alla seconda cercare un po' di rendere difficile il ruolo di difesa di questo pedone che potrebbe essere attaccato anche per altre vie con la donna da lontano oppure in alcuni casi con il cavallo che si posiziona all'in c3 pronto per saltare verso il centro b4 per carsen pedone a5 anche questa seconda mossa consecutiva di pedone qualcuno potrebbe interpretarla come una mossa molto strana anche questa ovviamente una logica dovete sapere che in apertura soprattutto in apertura e le mosse del bianco o comunque alla strategia del bianco corrisponde alla strategia del nero e l'importante è sempre avere delle mosse dei piani chiari l'idea di a5 è quella di non permettere a5 al nero la mossa a5 da parte del nero avrebbe rafforzato un pedone in b4 e poi sarebbe stato molto difficile e complesso rimuoverlo l'idea di a5 nasconde anche altre idee questa a4 è una casa molto interessante di manovra per i pezzi bianchi una torre potrebbe andare in a4 oppure un alfiere anche lì si potrebbe spostare al bordo della scacchiera sempre per migliorare la sua posizione il futuro di quest'alfiere ovviamente in a4 potrebbe essere quello di cambiarlo sul cavallo in c6 la partita prosegue pedone d6 a questo punto c3 il bianco decide di rimuovere il pedone che probabilmente in questo momento dà più fastidio e come vedete anche l'unico pezzo del nero che è stato in grado di superare la metà scacchiera quindi torre b8 mantenendo il contatto con b4 e chiaramente in caso di cattura un cavallo nero si posiziona in b4 anche lì sarebbe molto difficile da difendere il cavallo in questo caso occuperebbe una casa debole quindi una casa non più controllabile dei pedoni avversari e nessuno lo rimuove più tornando alla partita dopo pedone c3 torre b8 h3 per caruana cercando di evitare fastidiosi salti in g4 h6 per il nero scusate h6 per il nero e a questo punto d4 d4 è una mossa pratica logica vogliamo conquistare il centro della scacchiera e chiaramente il nero non è in grado di contrastare questa questa spinta e allora decide di prendere spazio piuttosto che al centro della scacchiera perché a lui manca la preparazione e la possibilità di spingere in d5 decide di prendere spazio al bordo e quindi cattura in c3 lo riprende e a questo punto nuovamente una cattura verso il centro come dicevo prima in caso di pedone cattura la casa b4 è sempre una casa molto interessante per i pezzi neri in particolar modo quel cavallo che lì in b4 diverrebbe praticamente inscacciabile dopo pedone per d4 arriva il bianco che gioca la cattura con il cavallo un buon compromesso perché decide di mantenere questo pedone arretrato isolato un po più indietro rispetto agli altri però con possibilità di saltare in f5 il cavallo in d4 spesso si dirige proprio lì sul lato di re e immaginando che possa saltare in f5 si potrebbe coordinare immediatamente anche con sul punto h6 quindi su quei pedoni dell'arrocco cavallo per t4 alfiere d7 alfiere f4 giocata da caruana cavalle 5 per e il momento di scacciare il cavallo magari chiudere l'alfiere attraverso questa semplice spinta di pedone oppure con questo cavallo l'idea potrebbe essere scacciare l'alfiere avversario cavalla 3 sulla scacchiera torre 8 alfiere g3 alfiere f8 dovete sapere magari qualcuno già lo sa che l'apertura scusate di nuovo e che l'apertura spagnola un'apertura dove entrambi i giocatori manovrano tantissimo ci sarà un momento in cui uno dei due deciderà di rompere l'equilibrio magari fare una spinta un po più impegnativa però prima di fare queste spinte impegnative si cerca di manovrare il più possibile f4 sulla scacchiera caruana vuole prendere spazio scaccia il fortissimo cavallo al centro della scacchiera di carsen e dopo cavallo c6 arriva e 5 questa qui è già una mossa molto molto irruetta molto forte perché come vedete è una mossa che supera la metà scacchiera e ovviamente ha delle idee dietro se riuscissimo a scacciare questo cavallo non è da escludere che la donna in coordinazione con l'alfiere possano cercare di dar fastidio su punto f7 non è anche da escludere che lungo questa diagonale possa verificarsi qualcosa e quindi carsen decide di eliminare il pedonino e5 il bianco fa altrettanto e dopo la cattura in d4 è il momento di raggruppare e riunire pedoni lì al centro della scacchiera allora noi guardiamo questa posizione probabilmente diremo ok questa è una posizione dove chissà il bianco sembra aver tutto al controllo totale del centro della scacchiera ha un alfiere fortissimo che attraversa il centro della scacchiera così come l'altro che seppur murato da un proprio pedone è ovviamente ha un'azione parecchio forte il pedone più avanzato in e5 è quello del bianco anche quello in a5 ha superato la metà scacchiera quindi diremo vantaggio di spazio sicuramente vantaggio di attività dei pezzi ed è molto difficile gestire questa posizione carsen gioca una mossa che a molti potrebbe sembrare assurda gioca alfiere c6 e ovviamente se l'attacco principale era su quel cavallo cosa potrebbe accadere dopo questa cattura dopo la cattura seguirebbe il cambio delle torri e ovviamente sulla donna che riprende qui di intermediere abbiamo tante abbiamo un donna per d4 scacco che potrebbe essere utile torre per b3 attaccando questo cavallo lì al bordo della scacchiera e ovviamente il nero avrebbe ragione però vediamo cosa potrebbe accadere in caso di cattura lui riprende di torre io riprendo di alfiere e anche qui o c'è qualcosa di immediato oppure la posizione che avremo di fronte è una posizione complessa tutto il gioco la tattica del nero funziona sul fatto che i pezzi del bianco non sono tanto coordinati tra loro ognuno di loro ha un tema di sovraccarico e quindi il nero vince con questa cattura io catturo in b3 se lo mi cattura il sovraccarico della donna quindi il doppio ruolo della donna era difendere l'alfiere e la torre l'alfiere non c'è più e chiaramente la torre verrà persa tra poco dunque questa mossa alfiere c6 mantiene il nero in partita con buone possibilità di prendere iniziativa alfiere c2 da parte di caruana di fabiano che vuole evitare di rientrare in quella tattica in cui il nero poi gioca un torre per b3 prendendo iniziativa alfiere c2 mossa imprecisa donna d5 tipica coordinazione batteria quindi alfiere donna che insistono sulla stessa diagonale e qui arrivano i problemi il nero attacca bianco difende il nero attacca sto minacciando un pedone come posso difendere questo pedone probabilmente con alfiere f2 se non fosse che alfiere donna sono coordinati per il matto proprio lì in g2 e allora dopo torre b4 in realtà la posizione del bianco crolla rh2 non resta che spostarsi da quella diagonale dopo torre per d4 il nero un pedone in più donna b1 dovete sapere che chiaramente sappiamo un pedone in meno contro carsen le possibilità di recuperarlo sono pressoché nulla quindi probabilmente fabiano caruana sa questo e decide di complicare il gioco prima semplificazione le semplificazioni aiutano sempre il giocatore che in vantaggio però non c'era di meglio adesso il cavallo si posiziona in c4 e l'idea del bianco cercare di fare in modo di catturare quel pedone c7 la partita continua torre b8 miriamo la torre torre c1 tutto su questo pedone c7 rimasto lì indietro che potrebbe essere appunto il tema di attacco la partita prosegue in questo modo adesso che l'alfiere difende questo pedone potrebbe darsi che il pedone di svantaggio quindi questo pedone in e6 possa non pesare tanto eppure dopo torre c5 il bianco decide di ritirarsi in f4 a questo punto dopo l'alfiere d5 capisce e riconosce che la posizione in realtà è andata e quindi in questa posizione decide di abbandonare per quale motivo il cambio delle torri è pressoché obbligato e a quel punto si soffre per la sconfitta o meglio per la perdita del pedone laterale ci sono tanti modi per per vincere e soprattutto dobbiamo sapere che il cavallo diciamo che questo cavallo lo sposto qui dobbiamo sapere che il cavallo è un pessimo difensore soprattutto quando gioca contro degli alfieri quindi questo cavallo è a rischio di essere intrappolato fabiano caruana lo sa non a caso abbandona contro il campione del mondo riconoscendo la l'ottima partita da parte del nero rivediamola rapidamente apertura francese scusate apertura spagnola variante principale e a questo punto dopo a4 cercando di attaccare questi due pedoni laterali si rientra in questa posizione il bianco col seno di poi possiamo anche aver visto che ha qualche idea per sbilanciare il gioco infatti in questo punto a questo punto dopo d4 al controllo totale del centro della scacchiera e dopo questi cambi decide di indebolire tra virgolette il suo centro posizionando un fortissimo cavallo in d4 tutto regge perché il problema della strategia che non ha funzionato è probabilmente che questa spinta che sembra così forte in realtà è confutata dalla sequenza che avete visto questo alfiere in c6 è parecchio forte e adesso i pezzi del bianco non sono realmente coordinati bene dunque alfiere c2 è caduta in questo tranello tattico dove alla fine si perde un pedone e con esso purtroppo controcarsene non c'è possibilità di recupero la partita prosegue in questo modo torre b5 attaccando i pedoni cercando di migliorare la propria torre lì contro il cavallo avviene esattamente così e dopo alfiere di 5 fabiano caruana si arrende spero che questa partita vi sia piaciuta come sempre l'invito è quello di seguire i social di matto scacco e appuntamento alla prossima